Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPL dove per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono un chilometro di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze e un chilometro di coda tra Ginestra e Montelupo in direzione Livorno. Rallentamenti per lavori tra La Strassigna e Firenze in direzione Firenze, un incidente avvenuto tra Firenze e Scandicci e Scandicci in direzione Livorno. Per quanto riguarda le autostrade in A1 rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna, rallentamenti per una perdita di carico tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Muoversi Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze e buon viaggio! Grazie a tutti!